non avevano un'altra manzana ma io ti chiedi ahahah euro stai frapsando? bella uberto non ti sento i miei 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 quando mettete i miei i miei ma canzone i miei ho zero speed non posso farlo ma è meglio con le voci si è cambiato cioè che che scarsi che siete perché con le voci ti convolge di più diciamo i io che voglio copiare la 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 non so cosa sia successo sono morto eh si fa tanto gioco eh oddio team bash buona eh sto ragando raga possiamo uscire se volete lì da pro no si non è banale ok tornato è quello di 1.13 quello lì in me ne è quello più forte chi è che si improvviene degli uffici con me? no che larga ragazzi lo tocchiamo siamo più forti noi di loro prima cosi noi dai dai distrutto distrutto guarda PK is extreme 3 milioni visto? uno è tipo all'esca di su sali su sono su giusto forza e qui è anche il punto a me alla fine alla finestra la finestra la finestra dietro la coca dietro la coca eh scusate ma purtroppo lagga ultimo il bomber team bash attenzione mi sono scatenato ho un lato deficiente sicuro che questo è un po' sono tutti da un lato dai che di blocco scusa fede scusa ok non è il quadro di costo 1 un e su mano l'ho preso mi sa lo è stato non è non è non è non è non è non si scuso dettati tutti però è una cosa bella la passiva ma se ti fa fermo 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 mario balla la sinistra tu sinistro tu sinistro bella marco un'unico un'unico oh hai visto quello come ascolato si 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 è assurdo vabbè qualcuno che racconta con me si io marco io marco destra gli altri due tempo i 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 ti eh, hai già sapevo che mi vuoi fare la città, sicuramente buona, buona, sono da solo sì sì, te lo avevo, io mi muto, aspetta ne ho due qui che scappano uno che ha il tank mamma mia come ha il tank mamma mia, sono ridicoli eh io ho detto usciamo quando abbiamo preso il primo team bash ok guarda che è lì che punta punk bella buona che è andato ti sto coprendo da destra un'altra un'altra anche ma ma eh, guarda eh, scappato l'atto c'è è arrivato l'hacker da delle palle come sono gli htisti due uno è distrutto vai 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 dov'è? vabbè vabbè averle pare averle pare averle pare averle pare non è meno cambia relativamente poco quindi a questo punto siamo qua per eccolo la moto di qua ti sta mirando non più è andato dai si sta mirando alex ti sta mirando eh ti sta mirando ti sta mirando non andare ti mira proprio in art Matteo tu se vuoi andare puoi fargli il giro di là no io volevo solo vedere se mi mirava tipo si si sta mirando te ale eh sta mirando te Matteo Matteo che culo quando vi dico andate su o voi andate su vai via Matteo vai via da là ti fa ti fa ti fa ti fa vai via ok eh vabbè ho capito ma mancanti i secondi gli scappo da dove va lui no? eh vabbè raga dipende da noi Matteo vai sempre a sinistra dal tank io copro il resto con gli altri non c'è Matteo a sinistra no si vede una rata di camperone di merda da cazzo finita troppo bugare eh si che hacker boia che hacker eh non si potuto far niente vai via vai via Pani vai via Pani bella Matteo bella Matteo vai 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 tornate tornate è stato picipa Marco è così ti becca non mi sa si si vede mezzo corpo eh penso che colgo Steinbot ti ti inculano no no ma anche per te che bella che non sono neanche riuscito colpire una volta mi distrutto con lo Scharelle no uuuu uno è qui uuuu tante uffici è stato uffici vi conviene arriva è lì è qui sono due qua davanti oddio ne killo ora e muoio ne killo ora e muoio ne killo ora c'è le lache che ti aspettano no stiamo vincendo però tutti e tre qua davanti ma come che fa la gente quando si glitcha qua tipo come cosa vede come fai ah si è uno davanti mi hai riuscito anche a colpire zio cristo Alex a destra che pack di merda è sempre lo stesso la 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 l'abbia Grazie a tutti.